buongiorno e buona giornata e buon fine settimana a voi tutti cari amici in questo sabato 12 settembre 2020 pochi minuti dopo le 10 intanto ciò qui bello come sfondo del desktop un poleman e un rin sono ridenti ma oggi è sabato e nel mondo della formula 1 della moto gp o superbike o quello che sia che significa che è sabato che è il giorno delle qualifiche il programma dice che dalle 14 e 10 vediamo un po a misano a misano partiranno partirà la q1 della moto gp e alle ore 15 partiranno le qualifiche della formula 1 in toscana al mugenio per la prima volta nel millesimo gran premio della ferrari sperando che tra moto gp moto 2 moto 3 formula 1 formula 2 formula 3 facciamo tutto un minestrone un po di soddisfazione italiana la possiamo avere anche perché ho letto un po in giro sembra ovviamente seppur in maniera contingentata sia tornato il pubblico diciamo in maniera molto molto rara guardo le prove e poi domani penso che sarò in trasporta dopo i due giorni a sanzanello però questa volta per conto di le gambie in detrani per fare praticamente fare una seconda raccolta e salsa di pomodoro quindi ragazzi preparati perché arriveranno anche per questa raccolta e salsa di pomodoro 2.0 o parte 2 se vogliamo dirlo così un nuovo video sono pronto a questo di fatti ho dovuto comunque comunicare al mio amico di cui diciamo avevo preso l'impegno giusto per vederci stare un po' assieme domani ma che in realtà siamo stati già in compagnia qualche giorno fa quindi ho avvisato dal mio impegno con le gambie in detrani però a parte questo buon vino di settimana a tutti sperando che sia un vino di settimana detto tra formula 1 2 e 3 moto gp moto 2 moto 3 bella soddisfacente per i nostri colori italiani anche perché vabbè Peter si ormai lo sa anche lui che nella prossima stagione non sarà più un pilota della Ferrari però comunque auguriamoci in generale di vincere o comunque di toglierci qualche soddisfazione io dopo la pubblicazione di questo video mi do come al solito di sabato al recupero della puntata di SmackDown della scorsa notte poi alla visione della puntata poi nel pomeriggio come vi dissi già ieri vediamo se in maniera separato poi in un unico contenitore video di condensare tutto tra formula 1 e moto gp le qualifiche quindi io vi saluto vi auguro buona conclusione di settimana buon weekend noi ci vediamo credo oggi almeno per un altro massimo altri due video domani almeno se il pomeriggio lo avrò un libro e sarò mi sarà possibile vedere la gara ci vedremo per il video al commento formula 1 e moto gp grazie a tutti alla prossima ciao amico alla grande ciao